Passa l'unanimità introdacqua il piano sociale distrettuale 2017-2018 dell'ambito Peligno senza i voti della minoranza che ieri non era presente in aula consigliare. Un atto dovuto, quella della votazione del piano sociale, che dovrà essere fatto proprio dalle 17 municipalità dell'ambito distrettuale Peligno, nel corso della seduta dell'assistica civica e sarà proclamata consigliere comunale Stefani Esposito, che prende il posto del capogruppo di maggioranza di missionario Pasqualino Sussi. La minoranza si vede che non è molto attenta alla vita politica del paese, interviene primo cittadino Terenzio Dicenzo, che non manca di sottolineare come, nella seduta di ieri, i banchi dell'opposizione erano vuoti. Stefani Esposito, prima dei non eletti, entra a far parte del Consiglio Comunale d'Introdacqua quasi due anni dalle ultime consultazioni comunali. Le dimissioni del consigliere Sussi risalgono allo scorso 24 marzo. L'ormai ex capogruppo di maggioranza ha spiegato di aver preso la decisione esclusivamente per ragioni personali, sgomberando il campo da ogni dubbio. Chiaro il riferimento alla vicenda del crollo del tetto del palazzetto dello sport, che risale al 10 febbraio 2012, ma gli avvisi di garanzia della procura sono arrivati nei giorni scorsi. Il nome di Sussi, ingegnere capo del comune, è fra i nove indagati, ma le dimissioni non hanno nulla a che vedere con l'inchiesta.